La donnina che contava gli starnuti A Gavirate una volta c'era una donnina che passava le giornate a contare gli starnuti della gente, poi riferiva alle amiche i risultati dei suoi calcoli e tutte insieme ci facevano sopra grandi, chiacchierate. Il farmacista ne ha fatti sette, raccontava la donnina. Possibile? Giuro, mi cascasse il naso se non dico la verità. Li ha fatti cinque minuti prima di mezzogiorno. Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclusione dicevano che il farmacista metteva l'acqua nell'olio di ricino. Il parroco ne ha fatti quattordici, raccontava la donnina, rossa per l'emozione. Non ti sarai sbagliata? Mi cascasse il naso se ne ha fatto uno di meno. Ma dove andremo a finire? Chiacchieravano, chiacchieravano e in conclusione dicevano che il parroco metteva troppo olio nell'insalata. Una volta la donnina e le sue amiche si misero tutte insieme, ed erano più di sette, sotto le finestre del signor Delio a spiare. Ma il signor Delio non starnutiva per nulla, perché non fiutava tabacco e non aveva il raffreddore. neanche un astarnuto, disse la donnina, qui gatta cicova. Sicuro, dissero le sue amiche. Il signor Delio le sentì, mise una bella manciata di pepe nello spruzzatore del muschicida e senza farsi scorgere lo soffiò addosso a quelle pettegole che se ne stavano rimpiettate sotto il suo davanzale. Eci, fece la donnina. Eci, 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 fecero le sue amiche e giù tutte insieme a fare una starnuta dopo l'altro. Ne ho fatti più io, disse la donnina. Di più noi, dissero le sue amiche. Allora si presero per i capelli, se le diedero per diritto e per traverso. Si strapparono i vestiti, e persero un dente ciascuna. Dopo quella volta, la donnina non parlò più con le sue amiche. Comprò un libretto e una matita. Andava tutto il giorno in giro, tutta sola soletta, e per ogni starnuto che sentiva, faceva una crocetta. Quando morì, trovarono quel libretto pieno di croci e dicevano guardate, deve aver segnato tutte le sue buone azioni, ma quante ne ha fatte? Se non va in paradiso lei, non ci farà proprio nessuno.